Questo video riguarda i migliori tre scarpe antinfortunistiche. Il vincitore della qualità è l'Armern Pro. Pelle resistente all'abrasione e tessuto molto traspirante. Tessuto, traspirante, assorbente e deassorbente. Materiale in memory foam, anatomico, antistatico, flessibile e confortevole, il disegno dello strato inferiore garantisce l'assorbimento dell'energia d'urto. Gurscio protettivo in acciaio, protegge dalla caduta di oggetti fino a 200 J e dalla compressione fino a 1,500 N secondo la norma in 20.345. La suola è realizzata in materiale PU per scaricare efficacemente l'elettricità statica. La gomma è riconosciuta in molti settori per le sue eccezionali proprietà, adesione, durata, elasticità, resistenza all'abrasione, temperature estreme e molti prodotti chimici. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è Lucaiali Scarpe Uomo. È un tipo di materiale in fibra aramidica sviluppato dall'azienda americana. Ha le funzioni di ignifugo, antiproiettile e antiforatura. Protezione della punta in acciaio dalla punta grande in acciaio alla punta piccola in acciaio. La punta in acciaio standard europeo può resistere a piercing 200J. Rispetto alle tomaie lavorate a maglia, le tomaie in pelle sono più resistenti e non facili da strappare. La suola antiscivolo è stata testata per i professionisti SRC e non mostra alcuno scivolamento significativo sulle piastrelle smaltate in condizioni di bagnato. Può essere utilizzato nella maggior parte degli ambienti di lavoro con requisiti antiscivolo. Il vincitore del premio è l'Armern Scarpe Antinfortunistiche. Punta in acciaio che protegge dalla punta in acciaio alla punta in acciaio. La punta in acciaio standard europeo può resistere al piercing 200J. Antiscivolo garantisce sicurezza sul lavoro e comfort di marcia, assicurati di poter camminare liberamente sulla superficie dell'acqua stagnante senza preoccuparti di cadere. Scarpe da salotto leggero e confortevoli. Ha oering una sensazione senza alcun peso. La tomaia è realizzata in knit traspirante, che ha una forte permeabilità all'aria che fornisce una confortevole esperienza del piede, garantendo comfort di lavoro a lungo termine e traspirabilità. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.